Offrire assistenza e servizi rivolti essenzialmente a giovani donne, mamme e alle famiglie. Siamo nel consultorio familiare in pieno centro alla Mezzia Terme, gestito dal Servizio Sanitario Regionale, in grado di garantire servizi specialistici gratuiti di assistenza sociale, psicologica e sanitaria al singolo, alla coppia, alla famiglia e alla comunità. Una mission complessa portata avanti con poche risorse, ma con figure professionali e umane, di spessore e dirette da Filippo Vescio. Perché questa è una struttura che si rivolge a tutta la popolazione, da 0 a 150 anni, come si dice, che arriveremo fra qualche anno. Cosa diamo? Quali sono le prestazioni prima per fare capire? Allora, noi facciamo prevalentemente prevenzione, facciamo prevalentemente prevenzione, per quanto mi riguarda prevenzione ginecologica, insieme all'altro collega che lavora qua, che è il dottore Cinque, con le ostetriche che provvedono a fare i prelievi per i D-PAP test, di HPV DNA test per la prevenzione del tumore del collo dell'utero. Seguiamo le gravidanze fisiologiche, per cui viene seguito tutto il percorso che riguarda la gravidanza e in modo particolare vengono fatti i corsi di accompagnamento alla nascita, che sono dei corsi importanti perché aiutano, preparano la neomamma per tutto il percorso, l'accompagnano per tutto il percorso della gravidanza fino al momento del parto, che ovviamente avviene in ospedale. Grazie.